come ti chiami? Pietro, Fulvio, Domenico. Quanti anni hai? 11, 9 e mezzo, 7, 8. Che vuoi fare da grande? Il pompiere, il calciatore, il pasta e cera, il poliziotto, il pizzaiolo. Perché? Perché voglio costruire la casa dei miei sogni. Perché mi piace inguagliare. Salvo le persone, che non mi ha capito. E lei è Martina. Che ti piace di lei? Gli occhi mi piacciono. Le sue scarpe, le sue mani. Le occhi, le sue patine. Se in cilità sono le capelli. Tutto. Vedrai bene la bambina. Si danzerei. E ora, falle una carezza. Falle una boccaccia. E ora, dalle uno schiaffo. Uno schiaffo, forte. Uno schiaffo. Dai. No? No. Oh. Ce la do. No. No. No? E perché no? Eh? Perché le femmine non si picchiano. Perché così si fa male. E perché Gesù non vuole far picchiare. Prima cosa è bellina e non glielo posso dare. Perché è una ragazza. Perché sono con loro la violenza. Si sa anche, le donne non si potrebbero toccare nemmeno con un fiore. E perché è brutto. Oppure con un mazzo di flori. E perché... Ciao.